E' stata accolta la richiesta di libertà su cauzione avanzata dai due marò italiani Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, arrestati con l'accusa di aver ucciso due pescatori scambiati per pirati. L'alta corte del Kerala, nel sud dell'India, ha concesso la libertà ai due militari in cambio di un deposito di 10 milioni di rupie, 143 mila euro, per ciascun marò e la designazione per loro di due garanti indiani. Durante l'udienza di oggi, i rappresentanti legali dello Stato del Kerala hanno anche accettato di rinunciare all'accusa di terrorismo marittimo internazionale nei loro confronti. Tutto questo, nonostante lunedì scorso, il governo del Kerala avesse espresso il suo parere negativo sulla richiesta di libertà provvisoria. La richiesta è stata analizzata questa mattina dal Tribunale di secondo grado di Kochi. Tale concessione è stata accordata in cambio di precise garanzie sulla permanenza in India dei due marò. Il rappresentante del governo federale ha sottolineato la necessità di stabilire delle condizioni contro il rischio di fuga e non ha scartato la possibilità di concedere un visto temporaneo del Ministero degli Esteri. I due marò verranno trasferiti dall'ex riformatorio a Kochi, dove sono deteluti, all'ambasciata italiana New Delhi.